amiche amici ben ritrovati su rossini tv guardate dove siamo oggi siamo in studio perché abbiamo l'onore di avere qui due personaggi che vi andrò a presentare a breve sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente dell'associazione fortuna dea di fano perché oggi parleremo della tredicesima edizione di birre d'augusto che avrà luogo i prossimi giorni proprio sotto le mura malatestiane di fano allora intanto vi presento i miei ospiti alessandro eusepi e alessandro vendia a cui dobbiamo diciamo chiedere tante cose dobbiamo toglierci tutte le curiosità per poter andare a visitare birre d'augusto e goderci di tutto questo bello spettacolo quindi non soltanto uno spettacolo dedicato alla valorizzazione delle delle birre ma anche uno spettacolo musicale e artistico da chi cominciamo alessandro buongiorno buongiorno a tutti come si svolge quest'anno il programma di birre d'augusto allora birre d'augusto quest'anno arrivata alla sua tredicesima edizione si svolgerà nei giardini biancheria morelli e il parcheggio adiacente di via 24 maggio a fano le date sono dal 12 al 16 agosto ricordiamolo come si svolgerà abbiamo diciamo pensato ad un programma generale per tutte e cinque le giornate dando un nome ad ogni giornata quest'anno partiremo il 12 agosto il sabato la giornata iniziale sarà quella con la giornata del mastro birraio dove affronteremo una tavola rotonda tra i vari produttori di birre artigianali presenti al nostro al nostro evento dove ci sarai tu nicoletta a fare da moderatrice trattenere i vari rapporti tra i nostri produttori di birra i nostri mastri birrai il 13 agosto invece sarà la giornata birra e brodetto birra e brodetto perché perché andremo a presentare in collaborazione con confesercenti e apci marche il binomio brodetto e birra artigianale presentando alle 19 un cooking show naturalmente ricordiamo che il binomio birra e brodetto sarà presente con uno stand di confesercenti tutti tutti e cinque giorni lunedì 14 invece presentiamo la giornata luppolandia dove in collaborazione con la ludoteca di scatolarci e la ludoteca di fan e la ludoteca di pesaro pesaro in gioco andremo a presentare dei giochi da tavolo e un torneo di bang in modo da poter condividere la giornata con tutti i ragazzi e non il giorno 15 invece sarà la giornata del birra agosto summer fest birra agosto summer fest perché poi naturalmente alessandro vi spiegherà meglio vi dava tutte le notizie possibili a riguardo sarà una giornata interamente dedicata alla musica e che musica il 16 invece la serata di chiusura dove avremo comunque sia i ringraziamenti e tutto sarà la giornata della birra in rosa denominata così perché perché sarà una giornata di compagnia tutta dedicata al mondo femminile in rapporto alla birra artigianale in collaborazione con l'associazione le donne della birra dove ci sarà farci comunque sia anche qui da moderatrice la nostra Nicoletta e insieme alla nostra amica Federica Beer Lover la grandissima e bravissima sommelier inutile dire che sono molto emozionata e sono molto contenta e mi sento partecipe anche io di questa bella manifestazione quindi amici avete capito che il programma è molto ricco quindi non basta andare solo un giorno per assaggiare una buona birra e magari mangiare qualcosa perché non abbiamo ancora parlato di cibo ma ne parleremo ma ogni giorno a Fano veramente c'è questa ricca offerta molto variegata io passerei un attimo invece adesso al vicepresidente ad Alessandro perché vorremmo sapere questa offerta serale dedicata alla musica in che cosa è composta allora la musica di quest'anno abbiamo riempito il palco con 12 band su 5 giorni quindi sono tante e abbiamo dato abbiamo cercato di trovare più offerta musicale possibile partiamo con sabato 12 alle ore 19.30 con un duo che fanno musica blues e sono i Barre Laus per arrivare ai 21.30 con i Radio Com che suono la Vasco Rossi Tribute Band la domenica 13 agosto avremo un DJ set sempre a partire dalle ore 19.30 e poi alle 21.30 i Catch the Giant che è un gruppo che noi ormai abbiamo adottato per la nostra manifestazione perché sono con noi sin dall'inizio e quindi noi ci riteniamo come mascotte loro fanno rock, sono un bel gruppo emergente fanese e ci teniamo a ringraziarli perché sono comunque 5 anni che anche nelle edizioni con il covid ci hanno aiutato quindi ci aiutiamo a vicenda per quanto riguarda il 14 agosto avremo due bei gruppi che sono i The Python che faranno musica agli 80 e i Rusty Finger che fanno vintage rock per arrivare al 15 agosto quindi il nostro birra agosto parlavamo di musica e abbiamo interamente dedicato alla giornata alla musica dando 4 gruppi quindi partiremo alle ore 18 con il DJ set di DJ Wolf alle 19.45 avremo i The Glam che fanno rock vorrei passare direttamente alle 22.45 con i Frutti Freschi che è un gruppo marchigiano ed è un gruppo che farà una spremuta di musica italiana ho voluto saltare le 21.15 perché abbiamo una bella novità di cui siamo orgogliosi la cantautrice fanese e pesarese Raffi farà l'unica data fanese e marchigiana a birra d'augusto dopo aver calcato e aperto i concerti di Vasco Rossi in tutti gli stadi ha deciso insieme al suo manager Roberto Casini di venire a birra d'augusto a fare la presentazione del suo disco che sta uscendo e si chiama Fashion Rock Live insieme alla sua band XX Energy quindi di questo siamo molto contenti molto orgogliosi e dedicheremo parte della serata a Raffi dopodiché andiamo all'ultima giornata dove avevamo detto che è la nostra birra in rosa perché anche qui abbiamo scelto e optato per due gruppi totalmente femminili e sono Ludo e Greta che è un duo acustico per poi concludere con le Rimmel che fanno anni 60 e anche questo è un gruppo totalmente femminile devo dire che veramente è una proposta molto ricca quindi c'è da passare tutte le giornate a cavallo del ferragosto dove c'è molto divertimento vorrei però ritornare al food perché dobbiamo dire che oltre alle birre d'augusto quindi alle birre dedicate alla città di augusto ci sono anche dei food truck esatto esatto accompagneremo le nostre birre avremo 11 birrifici 8 dei quali per promuovere il nostro territorio sono tutti marchigiani 3 invece vengono da fuori regione anche per andare a stabilire un certo rapporto di qualità tra la birra artigianale marchigiana e comunque sempre quella italiana anche per un confronto un confronto esatto esatto e avremo anche una decina di stand del food con alcune novità oltre naturalmente a quelli che erano già presenti gli anni passati quindi stiamo parlando delle nostre fiorentine toscane le arrosticine abruzzesi, le bombette pugliesi tutti gli hamburger, hamburger di Angus quest'anno abbiamo anche il pesce e abbiamo anche uno stand che porta una novità dove potremo trovare in stick, in formato stick piedini, definiamoli così, di pasta, carne, verdure, pesce e anche dolce sì perché ricordiamo che una volta il binomio birra pizza era diciamo indissolubile adesso invece possiamo dire che sempre più proposte non soltanto degli chef quindi dei grandi ristoranti ma deve arrivare adesso leggermente alla popolazione di tentare di abbinare, di creare degli abbinamenti che sono molto riusciti tra le birre e i piatti di tutti i giorni quindi con la pasta, con la carne, addirittura con il pesce quindi le varie tipologie di birra si abbinano benissimo a tutto pasto possiamo dire così esatto, la birra artigianale ci accompagna bene con tutto esattamente, quindi sono birre artigianali quindi ricordiamo fatte con un processo di produzione molto più attento rispetto a quello industriale e soprattutto con anche degli ingredienti che sono selezionati mi sembra di aver capito che c'è anche un'altra novità che riguarda anche una certa categoria di persone che ahimè a volte è necessario che abbia un'attenzione per la propria salute che è quella della celiachia perché ricordiamo che le birre contengono glutine ovviamente sono fatte dal grano, dall'orzo e da tutti i tipi di cereali ma c'è adesso la possibilità anche di avere delle birre senza glutine esatto, abbiamo anche quest'anno ce l'avevamo anche l'anno scorso ma quest'anno abbiamo un numero maggiore di birre per celiaci presenti quest'anno a birra d'augusto che è importante perché così non neghiamo a nessuno il piacere di una bella pinta come direbbero gli inglesi una bella pinta di birra bene allora presidente vogliamo ricordare quali sono i birrifici presenti a birra d'augusto ok, iniziamo da quelli territoriali abbiamo il birrificio Collesi birrificio Ialkis 61-100 birrificio dei Castelli birrificio del Catria l'Oltremondo il birrificio Renton e Angeloni in più da fuori regione abbiamo il birrificio della Granda la Brassevia Alpina e i fratelli Trami quindi abbiamo visto che le proposte delle birre sono veramente tante un po' per tutti i gusti ne avete creata qualcuna dedicata proprio all'edizione 2023? hai detto bene ne abbiamo proprio creata una appositamente per questa edizione è la Brodetto Bir Brodetto Bir che troverete naturalmente tutti i cinque giorni nel nostro evento è una birra fatta per sostenere il nostro territorio perché? perché andrà in accompagnamento al nostro Brodetto Fanese quindi diciamo che è una proposta anche turistica possiamo dire per chi non conosce i piatti tipici della zona quindi sicuramente a Fano ci sarà la proposta di far conoscere nei ristoranti anche il Brodetto il Brodetto tipico Fanese e anche la Moretta Fanese quindi diciamo che questi festival servono anche per promuovere un'intera città, un intero territorio perfetto, benissimo hai detto benissimo Nicoletta dobbiamo sostenere il nostro territorio noi come associazione comunque siamo legati a questo obiettivo per fare questo comunque sia ringraziamo anche chi ci ha sostenuti per il nostro evento per far sì che avvenga e si svolga il nostro evento sono la Regione Marche il Comune di Fano è l'assessorato al turismo abbiamo inoltre i Confesercenti, il Pesa Urbino l'Apci che sarebbe l'associazione professionale cuochi italiani la Proloco di Fano l'Aset e naturalmente te in rappresentanza della tua associazione le donne della birra grazie, grazie mille sono onorata sono onorata di portare questo piccolo contributo e soprattutto di partecipare a questo birra d'augusto che è sempre una bella manifestazione che culmina proprio diciamo che è il cuore dell'estate dell'estate fanese e di tutta la riviera amici telespettatori allora mi raccomando prendete nota dal 12 al 16 di agosto dalle 18 alle 24 un grande spettacolo dedicato alla valorizzazione delle birre artigianali non soltanto marchigiane ma italiane e poi tanta musica tanto divertimento tanto food e come avete visto anche tante novità zona Rocca Malatestiana quindi vicinissimo al centro una bella festa dedicata all'estate e alle birre ringraziamo i nostri ospiti il presidente all'ora di Fortuna Dea Alessandro Eusepi e il vice presidente Alessandro Bendia grazie mille per essere statica Grazie a tutti.